Konichiwa e benvenuti a tutti voi nel mio canale, siamo sempre Giappo Gamer e benvenuti in un altro episodio di Rumors, quindi Sigla! Ebbene il Rumors di questa settimana è un qualcosa di clamoroso nel suo piccolo, riguarda come vedete dietro da me qui sul desktop Resident Evil 2, il remake, in uscita il prossimo anno a gennaio per PS4, Xbox One e PC Ebbene, sembrerebbe che una demo sia quasi morte in questo mese di dicembre, perché? Perché un insider, presumo della Capcom, di nome Anthony Robert il che insomma il nick è qualcosa di veramente molto generico, avrebbe pubblicato due immagini, anzi in realtà ha pubblicato due immagini molto eloquenti di questa imminente uscita, questa demo incredibile questa è la prima immagine che vedete, prende riguardo alla sua dashboard, della sua PS4 dove appunto c'è proprio l'icona di Resident Evil 2 se ci fate caso, insomma l'icona non può non essere di Resident Evil 2 perché comunque l'immagine è molto eloquenta anche quella poi, se no che, non contento, ha pubblicato una seconda immagine qui, che riguarda la schermata iniziale di questa demo che, come si può vedere, come si vince da questa foto si possono utilizzare tutti e due i personaggi principali di questo remake incredibile di Resident Evil 2 ovvero sia Leon e sia Claire e insomma, ragazzi, potrebbe essere veramente una demo veramente che è qualcosa di eclatante veramente fighissima, poi in anteprima a dicembre, prima dell'uscita di gennaio insomma, non sarebbe male come cosa, per quanto mi riguarda, spero anche voi anche perché, se ci pensate un attimino, la Capcom la Super Software House con sede a Osaka, ovviamente in Giappone non è nuova a questi casi se ben vi ricordate, già con l'ultimo Resident Evil che in Giappone si ricorda col nome di Biohazard Resident Evil 7 è uscita una demo molto corposa se ci fate caso, poi addirittura anche a giornata per cui, insomma, è stata veramente una demo veramente molto molto bella a mio parere e quindi, insomma, potrebbe anche in questo caso comparire la demo comunque, io spero, insomma, che questo rumor se vi piaccia e mi raccomando, quindi adesso tocca a voi fatemi sapere voi cosa ne pensate vi piacerebbe questa anteprima di dicembre di questa di Resident Evil 2 insomma, fatemi sapere nei commenti se vi piace tutto questo video, lasciate pure un bel like condividete, se potete, con i vostri amici seguite i miei vari socials e iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella bene, dal vostro Giappone Gamer è tutto sayonara e ai prossimi video